No, mancavano 20 No, io la base, non possiamo aspettare Drake Hanno vinto e fai Ragione, vai, ha ragione che Paragene che Paragene che Paragene che Paragene che Sì, l'ho fatto apposta, ho predicato il flash Era questo quello che ti stavi chiedendo? Sì, stai pronto a saltare Oh, chi... Ti staiし. Ti stai Mi chiede l'ho fatto? Mi che... Mi chiede l'ho fatto? Oh my god Mi chiede la porta a rai Oh my god Come back No, come back Just to feel something That's why Your dick so small That Scendi il secchio delle immondizie, poi sduffa e poi affanculo. Dove siete usciti dal cerco? Questa è stata. 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 ostanza porco dio volete 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 la sua vita ma non ce la farete mai di ok non ce la farete mai io che lupen il ladro darsen lupen darsen porco dio non riesce mai a prenderlo è troppo intelligente troppo forte di ocan troppo astuto vorrei tanto che il moderatore e un asim di lolpedia cancellasse o oscurasse tutto di brizz in modo tale che un bel giorno un bel giorno priz arrivi in di in streaming e voglia i suoi titoli e puff non ci sono titoli da mostrare e puff me li ricorda memoria ho una domanda che in realtà volevo fare tanto tempo fa al coach degli atlas ma adesso lo farò qui a voi perché avete un player molto simpatico io ho una domanda da farvi sarà in grado di essere bravo sulla landa quanto è bravo a fare banter su twitter perché ad oggi ad oggi il buon dottor puce è bravo solo a scrivere passato le cuffie molto bene prova 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 salve signora ha un po di minestrone anche per noi in chat siamo in 1400 no 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 ai 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 sentono tutti no 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 sono io e basta allora mi dica leggevo il maestro lei è uno dei miei tanti no certo allora vorrei di vorrei porgerle le mie scuse per suo figlio perché e manca molto di rispetto a tutti quanti prima entrato ha iniziato a insultare a casa io non non c'è io mi dispiace non è colpa sua immagino non l'abbia educato così o naturalmente non è colpa su sì sì ha mancato di rispetto a tutti tutti quanti ok vabbè adesso lo li darò due piatti di minestrone molto bene molto bene perfetto è stato un piacere ciao buona serata ma lo sa che faccio danno questo secondo me non lo sa come sei morto dai decepcio il maestro sa che grani 9-2 soffando ormai 5 main si è fatto banare sul main molto bene proprio lo stesso giorno di iodine me lo saluta grande grani 92 sono orgoglioso di te molto bene grazie ciao tk za come stai ho fatto 1v2 praticamente chiudi la q chiudi la q di astrazo ma croc the fucking q dio porco ma dio cane c'è ma mi puce anche la wave di ostomato frizzano frizz frizz dio cane open 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 instantly sto qua porco dio fa la course di misfortune li lancia la ciabatta dio porco e poi rimane lì io porco mai vista la roba del genere mai vista la roba del genere in vita mia ma killati quella di carri e poi killiamo swain eccomi ulta sono inutile raga non ho fatto niente a di carri di friends grazie lando perché sono così insignificante oh top però i minion winions non ci credo non ci voglio credere non posso vincere un game con i minion il silver è anche questo carriato dai minion questo game era perso era per avevamo perso avevamo perso erano erano invincibili fight non stavamo più vincendo i fight era persa quasi certo ahhh porca madonna porco dio porco dio porco dio porco dio porco di dio porco 2 porca madonna porco 2 porca di quella madonna porca di quella madonna porco 2 mi senti mi senti mi senti ho spostato sul disco da un ragazzo che si chiama paolo fallito trentenne e gli vorrei chiedere se il paolo sono io ha come tag don il flamer però non parla al momento ed ha una foto di qualcuno che sembrerebbe lui e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè lanterna e vabbè e vabbè e vabbè